segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e con dignità sempre sempre dignità e per quello che è strano vederti oggi qui diciamo tra virgolette un po costretto no anche dalla situazione a raccontare la tua verità tu al corriere della sera hai detto è un gesto credo ho usato proprio la parola orrendo ma io non posso essere dipinto come un mostro assolutamente assolutamente è un gesto che è stato fatto in un momento molto sbagliato ovviamente è un gesto che non dovevo fare ho chiesto scusa a tutti a serena portone all'azienda della rai e a jessica morlacchi e sono gesti che a volte si ti portano ad essere considerato quello che non sei perché li fai questi gesti li fai con molta leggerezza li fai con incoscienza forse vediamo però il fatto